Sindaco, si chiude un 2022 che è stato sicuramente molto emozionante per lei, quale nuovo sindaco della città e si guarda al 2023 ovviamente con rinnovato spirito di speranza. Indubbiamente il 2022 è stato un anno per me eccezionale, nel senso che è cambiata la mia vita, è cambiata la vita della mia famiglia, spero di riuscire a cambiare in meglio anche le attività e la vita della società tolentinate. Ce la stiamo mettendo tutta, questo 2022 si sta chiudendo con qualche speranza, sembra che il gas si stia normalizzando, che le cose possano ritornare un po' alla normalità, se questa cosa accade come io auspico, come auguro oltretutto, potremmo avere un 2023 assolutamente ricostruttivo e nella possibilità di far ripartire non solo la nostra piccola città che seppur piccola è molto attiva, molto laboriosa, ma l'Italia stessa. L'augurio che fa a voi e alle vostre famiglie che ci state seguendo da casa di poter iniziare un 2023 con l'auspicio di essere un po' più attenti verso il prossimo e probabilmente saremo anche più attenti verso le nostre potenzialità, sia familiare, lavorativa, che di comunicazione. Quindi un buon 2023 con l'affetto e con quello che ci siamo iniziati a conoscere in questo inizio del 2022, vedremo come andrà successivamente, ma un augurio di cuore per un 2023 saremo. Siamo al momento degli auguri, si chiude il 2022 e si guarda al 2023, una conferenza stampa di fine anno per segnare quanto si è fatto, ma soprattutto anche per dare le novità. Sì, abbiamo anche dato spazio alle attività del Consiglio Comunale, come amministrazione comunale il Sindaco Sclavi ha sempre ribadito la centralità del Consiglio Comunale come luogo democratico della nostra città, come rappresentativo anche di un saper fare e di un saper essere. Da Presidente del Consiglio Comunale quindi ho tenuto a riportare i dati delle attività che abbiamo svolto in questi mesi, una grandissima attività, ben sei regolamenti approvati, 50 atti approvati, 11 interrogazioni e 6 mozioni. Ringrazio tutti i capiruppo del Consiglio Comunale a nome di tutti i consiglieri, quindi coloro che rappresentano i propri gruppi consigliari, auspicando per il 2023 una maggiore collaborazione, una maggiore partecipazione, una dialettica più pura, più trasparente, più utile ai cittadini. I miei auguri a tutti voi, di buon anno, veramente un 2023 che vi regali tutte le soddisfazioni che volete, un pensiero a chi magari in queste festività le vive con qualche difficoltà, con qualche disagio, con qualche preoccupazione, sperando che appunto il senso di comunità che deve caratterizzare una cittadina come Tolentino e 20.000 abitanti possa alleviare spesso quelle che sono le sofferenze che molti di noi abbiamo. Per quello che possiamo, ecco, sentiamoci il dovere di essere vicini a tutti coloro che vivono in situazioni di disagio. Quindi buon 2023 a tutti e buone festività.